I mezzi e gli uomini sembrano non bastare mai rispetto alle tante esigenze del territorio, ma il consorzio di bonifica del Sarno non demorde. Rosario D'Angelo, appena riconfermato commissario dell'ente regionale, guarda all'immediato futuro. Sul fronte emergenze sarà attivo un servizio di reperibilità di uomini e mezzi che affiancheranno, qualora ce ne fosse bisogno, la protezione civile ed i comuni. Quindi spesso non abbiamo uomini e mezzi a sufficienza per tutto il comprensorio. Ci vorrebbe un esercito di uomini e di mezzi che noi purtroppo non abbiamo, quindi diciamo che negli ultimi anni siamo riusciti a tamponare, a rendere al consorzio più mezzi, quindi tra camion e mezzi e trattori, però non bastano mai. Soprattutto poi se ci fosse l'emergenza di pioggia, adesso in questo caso stiamo facendo taglio, però quando ci saranno le piogge c'è bisogno più di mezzi di scavatori o di supporto ai comuni, perché noi ripetiamo, attiveremo anche la reperibilità che partirà in questa settimana e sarà attiva poi per tutto l'anno, soprattutto nei mesi invernali. Quindi la disponibilità H24, i nostri tecnici operai, intervenire a fianco dell'amministrazione delle protezioni civili regionali e della regione, qualora ce ne fosse bisogno, speriamo mai. L'ufficio progettazione sta elaborando insieme alla regione Campania molti progetti, quindi le famose due barriere che dovranno anche queste nitigare i rischi in alcuni comuni, soprattutto i comuni sono più esposti, ricordiamo la piana dove sta nel comune di San Marzano, anche lo stesso che la stessa San Giorgio, quindi queste opere che sono opere che però non verranno la luce in questo autunno, e quindi però sono opere fondamentali per ridurre il rischio idrogeologico e insieme alla regione Campania stiamo approntando, progettando e mettendo poi in esecuzione.